Oggi ho come ospite Danuta Dopskoska perché è una dei docenti del corso Blockchain Mind di cui vi ho già parlato in un altro video. Ciao Danuta! Buongiorno Marco e grazie per avermi invitata. In realtà non solo docente ma sono qui anche in veste di training manager di PC Academy e di organizzatrice di questo corso insieme un po' anche ad Alessio, Leo, però la maggior parte è mia. Perfetto, hai fatto bene a specificarlo. Allora, ovviamente la prima domanda che ti devo fare è di cosa parlerai al corso Blockchain Mind. Allora, in realtà i miei interventi sono due, però mi piacerebbe anche far vedere come è organizzato questo corso, cioè perché il focus nostro specifico e questo è particolare rispetto a tutti gli altri è piccole e medie imprese e professionisti. Il corso, visto anche il momento di crisi economica, tanti problemi che ci sono, è proprio per aiutare le imprese, i professionisti a sviluppare meglio le loro attività e business e far capire come le DLT, tecnologie basate su registri distribuiti, sono a supporto di praticamente qualsiasi settore oggi. Quindi, magari, prima cosa ti faccio vedere un attimo come è organizzato perché sono cinque weekend, sei anche tu il nostro docente, sono felicissima Marco anche per questo. Nel primo cerchiamo di aiutare tutti ad avere i fondamenti, che tu abbia basi o non le abbia dopo il primo weekend esci, se hai già delle basi, le hai approfondite perché si chiude con un workshop della durata di due ore in cui si sperimenta se hai le basi a livello più avanzato. Fatto questo, poi passiamo al secondo weekend che è molto interessante perché parliamo del universo delle blockchain e le DLT, quindi tecnologie basate su registri distribuiti. Perché non abbiamo solo la blockchain e dal momento che ce ne sono tantissime, vogliamo far capire come si usano, dove, in quali ambienti, quali possono essere i vantaggi. Detto questo, uno dice, vabbè, però è un gran casino. In realtà all'inizio lo sai anche bene tu, era così. Oggi non è più questo il sistema perché esistono gli ecosistemi, cioè interoperabilità tra le varie blockchain e tecnologie basate su registri distribuiti che ci permettono di far comunicare diversi sistemi. Quindi in secondo weekend parleremo di questo, più ovviamente sempre tanti casi pratici. Noi abbiamo, ad esempio, una persona interessantissima che ci parlerà di trade, di applicazione delle DLT ai commerci internazionali. Sappiamo tutti i problemi tra le dogane, i documenti, i pagamenti, eccetera. Le blockchain sono fantastiche, sono veramente una base unica per risolvere questo problema. Poi passiamo alla finanza decentralizzata e anche a fondazione di ogni impresa, raccolta fondi, messa in sicurezza, la valutazione di un progetto, come faccio a capire se investire in progetto o no, perché magari è una truffa e abbiamo un'investigatrice privata che ce lo spiegherà. E poi abbiamo te, Marco, e anche un'altra persona, Ilaria, che cercherà a capire marketing nell'ambito delle blockchain e anche come fare lo storytelling di un progetto, cioè come promuovere il mio progetto. Tu sei maestro in questo. E su questo poi anche il ruolo delle finanze decentralizzate, ovviamente, delle stablecoin. Il quarto weekend sarà forse un pochino duro, però interessante, importantissimo, perché si parla di legislazione, le blockchain. Ed obbligo, purtroppo questo è un argomento che non si può evitare. Brutto, ma non si può evitare. Ma devo dire che, sì, io non sono un'economista, ovviamente non sono una legale, però devo dire che mi sono, non appassionata forse, ma interessata, perché è veramente fantastico. L'anno scorso ho lavorato su un progetto Horizon nell'ambito delle energie rinnovabili con India e ho scoperto come un paese così lontano da noi, ma tecnologicamente avanzato, si sta organizzando. Così anche quello che succede in tutto il mondo, guarda che, cioè, io so che tu lo sai, ma è veramente interessantissimo. E l'altra parte è quella degli aspetti fiscali. Noi non abbiamo una legge ancora sulla fiscalità, abbiamo delle circolari, delle agenzie delle entrate. Però ci sono alcune cose che vanno specificate che molte persone non sanno. E il quarto weekend siamo nel pieno delle imprese. Qui veramente abbiamo a che fare con chi ha fondato imprese sull'energia rinnovabile, piuttosto sulla neutralizzazione, gestione identità nell'ambito corporate, non soltanto pubblico, eccetera. Nel turismo esistono degli NFT, non fungible token, utilizzati, bravo Marco, è fantastico parlare con noi che comprende, utilizzati già anche nel turismo. Per cui anche le permissionless, cioè la blockchain decentralizzate in ambito enterprise. Questo corso, tutti questi argomenti sono organizzati in modo tale che quando un partecipante esce da ogni singolo weekend, sa che entra con questo, esce con questo. Materiale completo, compiuto e può essere già spendibile. Alla fine dell'intero corso ha una panoramica completa su quello che oggi sono le tecnologie, entra in contatto con imprese, con chi lavora già in questo ambiente, che ha già magari fondato delle imprese o comunque lavorato sui progetti, li ha implementati, e quindi riesce a vedere che cosa veramente fanno queste tecnologie. In più, permette un po' anche a vedere chi siamo come paese, come Italia, perché l'Italia è nella top ten mondiale per il numero di progetti sviluppati con tecnologie DLT, con le blockchain. E questi pochi lo sanno, facciamolo vedere, anche perché veramente ne abbiamo bisogno, proprio dal punto di vista economico in Italia serve. E sì, poi comunque alcuni di questi progetti li farete vedere al corso, quindi è un modo per avvicinarsi e vedere concretamente come si sfruttano queste tecnologie. Esattamente, cioè noi portiamo veramente dei, non sono solo docenti, sono degli imprenditori, addirittura mi fa un gran piacere avere anche l'Università di Palermo, che ci parlerà appunto della varietà delle DLT, delle tecnologie, ma farà a nona spin-off. Ed è fantastico, importante far sapere che le università oggi, per fortuna, non sono soltanto dispensori di conoscenze teoriche, ma diventano del hub, diventano degli incubatori di imprese, cioè dell'operatività, e questo lo faremo vedere. E sì, anche perché queste sono tecnologie talmente all'avanguardia che le università servono, sono utili per poter fare un po' di ricerca, e quindi anche una collaborazione con le università spesso è una cosa molto positiva. Tra l'altro ricordo che questa è la terza edizione del Blockchain Month, cioè ne sono già state fatte altre due con successo, io ho anche partecipato a quelle scorse, quindi stiamo parlando di un corso non solo che è completo, ma che oramai, diciamo così, è consolidato, no? È consolidato, sì, però cambia anche un po' veste. Io ne ho seguiti, ne ho visti soprattutto quello dell'anno scorso, ogni anno è diverso. Diciamo che noi andiamo a cogliere ciò che è l'esigenza del mercato, delle persone, ciò che viene richiesto, e diamo le risposte. È una cosa che mi sono dimenticata anche interessantissima. La maggior parte delle persone non sa che le nuove tecnologie, intendo intelligenza artificiale, big data analytics, IoT, eccetera, tutto questo avrà alla base, sta già avendo oggi, le Blockchain e le DLT. Perché? Perché non esiste un altro sistema oggi, altrettanto efficace, veloce e economico, poco costoso, che possa rendere operative quelle tecnologie lì. Sono un amico silenzioso, un supporto ad altre tecnologie. E quindi oggi dire, vabbè, può interessarmi, può non interessarmi questo ambiente, non è più una cosa da considerare nemmeno, semplicemente ci sono, sono dentro la nostra vita, in qualunque ambiente, e quindi conoscerle è fondamentale. Ok, quindi il corso è bello strutturato, c'è tanta roba, e le tue singole lezioni invece che cosa riguarderanno? Grazie Marco, io sarò docente in due momenti distinti, uno che riguarderà proprio gli ecosistemi, cioè come far convergere, anzi come convergono già oggi queste tecnologie, possiamo passare da EBSI, che è il sistema della Comunità Europea per la pubblica amministrazione, tutta la pubblica amministrazione, viaggerà sulla blockchain, viaggerà, tra virgolette, per andare, non so, a Polygon, ad esempio, che è una cosa assolutamente tecnologica, è decentralizzazione, finanza decentralizzata, ma per poi passare a una BSN, che è Blockchain Service Network, la cinese, che fa tanta paura, anche giustamente, che sta cercando, è bravo, di focalizzare su di sé, praticamente tutti i commerci e scambi a livello internazionale, è veramente tantissimo. L'altra cosa di cui il secondo intervento riguarderà le basi della legislazione a livello mondiale, è una cosa che ci riguarda un po' tutti, perché sappiamo, io ho lavorato per otto anni nella compliance normativa, il mio background è quello di formazione esperta, di formazione per adulti, di consulenza aziendale, però ho anche questa parte normativa. È fondamentale perché ciò che accade qui da noi, se viene superato dal punto di vista delle legislazioni, che sono più favorevoli altrove, ovviamente strozza il nostro mercato, la nostra economia, per cui sono due ambienti. E poi curerò ovviamente l'aspetto di, mi devo assicurare che ognuno dei partecipanti porti a casa dopo ogni weekend un pacchetto completo, una cosa concreta, dice ok, ho questo, mi serve, posso utilizzarlo. Eh sì, anche perché comunque la parte normativa per chiunque voglia lavorare in questo settore non si può ignorare, per forza di cose, perché poi quando si lavora ci si scontra obbligatoriamente con la normativa e bisogna conoscerla, altrimenti ovviamente si rischia di non sapere quello che si sta facendo. Ma sai Marco, io direi anche di più, se non ci fosse purtroppo questo settore morirebbe. Non possiamo, io lo so, nato in modo assolutamente disruptive, come ribellione, anarchico, tutto quello che vuoi, però noi dobbiamo anche far conto con il resto del mondo che esiste e che non può andare per aria, che ci piaccia o no, da un giorno all'altro. E certo, non si può staccare, non ci si può, il mondo è uno solo e quindi bisogna operare all'interno del mondo che c'è già, non si può immaginare di costruire un mondo virtuale finto o diverso. E quindi le normative ci sono e ci sono già e bisogna per forza di cose conoscerle. Conoscerle, ma ci dobbiamo anche battere affinché siano sostenibili. Questa tecnologia non può essere imbrigata, se è decentralizzata è decentralizzata e guarda che un concetto mi è talmente difficile spiegarlo. Sembra una parola banale, ma quando arriviamo ai fatti, io ripeto a certe persone tre, quattro, cinque volte facendo esempi perché proprio non entra. È difficile perché è una cosa troppo nuova, è difficile, nella storia non è che ci sia stato tanto di decentralizzato, cioè di organizzazione, di strutture decentralizzate. Qui è difficile capirlo perché uno si ricorda che tutte quelle, le esperienze passate hanno sempre avuto a che fare con piattaforme. È un capo, se non c'è un capo allora come va ad andare avanti? E qua non c'è qualcuno, non è che c'è un numero di telefono da chiamare e dire ah senti ho un problema con bitcoin. Non funziona così e quindi bisogna abituarsi a qualche cosa di ovviamente completamente nuovo. Nuovo che però ci mette anche di fronte a tanta responsabilizzazione. E anche questo è un altro concetto, sì è bella la libertà, ma io devo sapere che la libertà è anche responsabilità. A me questo concetto piace molto. Sì sì, piace molto anche a me, però a molti fa paura, però se lo conoscono fa un po' meno paura, diciamo almeno... Penso anch'io. ...e qualche cosa. Quindi tu hai già accennato prima, io volevo farti un'altra domanda, qual è il tuo background, la tua formazione professionale? Sì, io sono esperta di formazione per adulti e consulenza aziendale con diversi anni prima all'interno di... Sempre lavorando con le tecnologie però, formazione, tecnologie, e-learning e altri strumenti. Prima su una... Penso la più grande piattaforma per il learning italiana che è Docebo. Quando ero arrivata, lì eravamo a casa del CEO dell'azienda, da forse in cinque persone, oggi è una multinazionale con sedi all'estero. Poi per otto anni è un'azienda che si occupa di compliance normativa, per cui privacy, antiriciclaggio, tutte le leggi noiosissime, che però vedi, la cosa bella è che quando tu ti rendi conto che è noioso per te e sai che è altrettanto per gli altri, la sfida è di renderlo interessante prima per te, divertente, e così funziona anche con gli altri e ho avuto riconoscimenti su questo. La stessa cosa riguarda blockchain e le tecnologie basate sui registri distribuiti. Non parliamo, pur essendo una cosa molto tecnica e anche magari complessa, non parliamo il tecniche, tecnichese, ma rendiamolo commessibile per chiunque. È fondamentale. Sì, sì, anche perché comunque questi sono argomenti su cui bisogna per forza, diciamo così, scontrarsi con la tecnologia. Non è che uno la può evitare, però c'è modo e modo di affrontarla. Quindi un conto è affrontarla in modo, diciamo, più chiaro, più comprensibile, e un conto invece affrontarla nel modo, diciamo, solito, no? Il solito vecchio modo molto ostico, molto proprio solo tecnico, che in effetti spaventa molto. Questo non è il caso, fortunatamente. Esatto. Ma poi sai una cosa? Io vorrei approfittare per spezzare una lancia verso le donne. Tu non hai idea quanto sono felice quando io vedo le donne in aula, quando faccio formazione su queste tematiche. Sono purtroppo ancora pochissime, ma quando ci si mettono, Marco, sono una bomba. Cioè, veramente, perché le donne sono toste, sono determinate, studiano tantissimo. E ottengono veramente degli ottimi risultati. Abbiamo paura perché stiamo abituati magari a fare le cose più semplici. Anch'io ho scritto poesie, ho lavorato un cinetto, le cose che mi piacciono molto. Però mi piace anche guidare le macchine veloci e lo adoro. Dobbiamo buttarci, dobbiamo aver coraggio di farlo, perché le donne sono veramente toste. Vorrei vederne tante in aula. Tra l'altro questa cosa che dici vale per tutti, nel senso che questo è proprio il momento di buttarsi su queste tecnologie, perché il momento buono è questo. Se uno aspetta, poi tra qualche anno diventano, diciamo così, ad altissima concorrenza. Ci sono entrati tutti e poi ci si può ottenere di meno. Questo invece è il momento giusto perché la concorrenza è ancora poca e quindi bisogna darsi da fare prima degli altri in modo da cogliere le migliori opportunità. Esatto, ma anche Marco giusto. Cogliere le opportunità, io direi anche scegliere. Perché in questo momento, per quanto vedi, è un momento ancora già di consolidamento, ma anche con ancora tante porte aperte. E questo significa che tu in certo modo puoi modellare, puoi capire cosa ti interessa e cominciare, anzi, influire sul flusso. Fra qualche anno probabilmente tu ti ritroverai, un po' come le banche per fare qualche esempio, la pappa pronta o ti va o ti va. Sono d'accordo. Oggi non è così. Ma ti dirò di più. Io diciamo moltissime richieste di persone che mi dicono che cosa potrei fare, come tu potrai entrare in questo mondo e non hanno la più pallida idea di quante cose si possono fare in questo mondo. Hanno giustamente una visione limitata, perché l'hanno ancora studiato poco, si sono ancora addentrati pochi, però quando poi si entra in questo mondo si scopre che le opportunità sono svariate e di tipo completamente differente. Si va da quello che sviluppa, quello che si occupa di finanza, a quello che si occupa di legge, a quello che si occupa di notarizzazione. Veramente c'è un panorama amplissimo che le persone ignorano solo perché non si sono ancora addentrate in questo mondo. È un corso, è un modo velocissimo per addentrarsi, perché nel giro di cinque settimane c'è una bella panoramica completa. Esatto, ma infatti la cosa più bella è di far vedere che io, ad esempio, non sono una programmatrice. Sì, da ragazza ho imparato anche a programmare in DOS, però non sono una programmatrice. Questo è un settore davvero per chiunque, ma davvero per chiunque. Avendo, potendo vedere durante il corso tutte le diverse aziende, le applicazioni, uno si rende conto che anche senza un background squisitamente tecnico è possibile. Un'altra cosa che hai colto, infatti, giusta è che la gente si avvicina e dice «Eh, ma da quale parte io posso iniziare?». È proprio così. A volte anche io sono in difficoltà a dirti «Ok, ho dieci minuti di tempo, ti spiego che cosa è questo mondo». Non so nemmeno cosa faccio. Ti spiego la finanza? Ti spiego le applicazioni industriali? Ti spiego la sicurezza? Perché molti dico «No, no, no, è mafia, è dark web, non mi voglio avvicinare». Per cui hai ragione, Marco. Questa cosa, in qualche modo, sicuramente il corso aiuta, però dobbiamo anche risolvere e riuscire a far comprendere a grandi linee che cos'è, soprattutto che è legale e che pervade già oggi tutta la nostra vita. E questa è una cosa che sarà difficile, che noteranno le persone, perché la blockchain si usa senza magari nemmeno sapere che cos'è, come funziona, nemmeno dove è, però funziona, però la usi. E quindi è necessario approfondire un po' per capire quali sono le opportunità, perché ce n'è davvero, davvero molte. E la cosa interessante è che ci sono anche in Italia, cosa non sempre facilissima, perché ci sono molti altri settori in cui ce ne sono molte di meno di opportunità in Italia. Qua invece ci sono. Ma guarda, ma infatti, siamo, secondo la ricerca del Politecnico di Milano, l'anno scorso, l'Italia era sesta al mondo per il numero di progetti su blockchain. Ma non solo. L'ABI, molti non lo sanno, è uno dei primi progetti a livello europeo che usa già la blockchain. Un centinaio di banche usa il progetto Spunta per la Spunta interbancaria, usa una blockchain. E tra l'altro mi sembra anche da un po' di tempo, perché io questa cosa l'ho già sentita... L'anno scorso. Si hanno cominciato a lavorare nel 2016 addirittura. Eh, sì, mi sembrava. Esatto. La prima riunione sulla blockchain e criptovaluta si è tenuta nella Banca d'Italia nel 2015. E noi siamo nel 2020 e ci stiamo domandando se ha senso utilizzarle. Sì, sì, no. È pazzesco la distanza che c'è tra quello che le persone comuni pensano di questo mondo e poi invece che cosa effettivamente si fa in questo modo. Bisogna aprirsi un pochettino e acquisire maggiori informazioni, io direi tante maggiori informazioni, che conviene concentrare, perché io lo dico sempre, se uno si mette da solo a studiare queste tecnologie, ci mette degli anni. Ma non uno, tanti anni. Forse è meglio accorciare i tempi e acquisirle tutte un pochettino assieme in modo da velocizzare un po' il processo. E questo è anche il ruolo tuo, Marco. Stai facendo un ottimo lavoro come divulgatore. Veramente, complimenti. Grazie, grazie. Allora, io ti ringrazio per essere intervenuto. Ovviamente ricordo a tutti che metto tutti i link in descrizione, così almeno avete tutti i collegamenti. E saluto Danuta e ringrazio per essere intervenuta. Grazie, Marco, a te. Grazie a tutti. Ci vediamo, spero, a Blockchain Month. Un saluto, ciao. In rottunno. Ciao, Marco. Ciao, ciao a tutti.